Musica Credo sia una valvola di sfogo per qualsiasi cosa, anche con la scuola. Una passione, una valvola di sfogo e forse, chissà, una futura professione. Per Caterina Cavallini, allieva della Dance Art, oggi la danza è questo. Per lei un importante trampolino di lancio ballerà a Londra nel musical fame. Caterina ha fatto una prima selezione a Padova ed è stata selezionata per poi partecipare all'audizione finale a Londra e lì sono stati scelti molti ragazzi, alcuni ragazzi per poter partecipare al musical fame. È un musical per cui Caterina prenderà parte all'area della danza, però è un bel traguardo perché dopo anni e anni di studio finalmente si balla su un teatro e non in Italia ma all'estero nella patria del musical europeo che è Londra. E comunque Caterina ci ha dato sempre soddisfazioni fin da piccola, ha vinto vari concorsi sia come singola che come passi a due e quindi diciamo che il talento c'è. Il musical avrà cinque repliche al Leatherhead Theatre di Londra nell'agosto prossimo. 250 ai ballerini che vi potranno partecipare, Caterina è stata selezionata nello scorso gennaio e scelta tra migliaia di candidati che andavano dai 16 ai 22 anni. Come sono stati questi tre giorni a Londra? Sei andata da sola? Sì, sono partita con gente che non avevo mai visto prima e sono stati abbastanza intensi, però ci siamo divertiti, anche nuove conoscenze, quindi una bellissima esperienza. E quando ti hanno detto che avresti poi ballato nel musical? E' stato bello, non ce l'aspettavamo, quindi bello. Sì, bisogna anche conoscere la lingua però. Eh sì, ci lavoreremo per bene però. Un buon callum. Crepi.